Bene ragazzi, bentornati a questo appuntamento con lo Strafamondo Siamo su Minecraft anche oggi Ricordiamoci, è notte, bene Per prima cosa, ci stanno distruggendo la casa Bene, abbiamo deciso di spostarci quindi Si, tanto io sono morto quindi non ho bisogno Fammi andare a prendere le miei Ho trovato la spada Grazie Ruben sali sulla torre Scegliamo in che direzione andare Vado un attimino Ah no, ha fatto esplodere la torre Eh si Seguite me Dove sei? Qua Mi vedi? Sono dietro Bravo Basta ragazzi è giunto il momento di immigrare Dove sei? Rimarrà solo un ricordo No ma magari torniamo Dove sei? Ma no io non ci torno qua Ma si ma c'è un bel posto Dove sei? Ma fa schifo, sono qua Andiamo Da che parte? Di qua Dan Attenzione Attenzione C'è una discesa Dove siete? In Pervia Te me l'ha detto seguitemi Appunto dove sei stato Ruben scusa Io pensavo fossi dietro Sta cambiando le impostazioni Dai Mi troverò Sì col tuo orologetto stupido Ok dietro di te È mio Vai vai Ganzo Ma Ruben sai dove siamo? Sì 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 certo Come no Tu mi vedi Luca? Alla massimo mangiamo la terra No mi sei sfuggito Luca chiama Ammon Luca chiama Carne marcia Figurti che cosa poteva essere qua Carne marcia Sai chi va a mettere nelle provviste Allora io vedo la torre Allora tu vai a la torre Gira a sinistra Vai sempre dritto Io e Ruben ci siamo incontrati Oh oh Già subito È sempre il suo stile quello Uccidere gli altri? Sì quando vedo la torre Uh vedo la torre Ciao Oh Basta 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 Tra l'altro ma io ho la mia armatura Guardate verso la torre Buongiorno Mi hanno dato fuoco dove è l'acqua? Via acqua Meno male c'era l'acqua Cioè cosa ci fa uno zombie in pieno giorno? Dai andiamo a salvarlo perché questo qua Ma no me la capo da solo No 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 me la capo da solo C'è i nostri letti eh Va bene Siete tutti insieme? Ragazzi noi stiamo seguendo Ammon Se dovessimo morire Via verso il sole Verso il sole Che chi ha mai colpito? È lui No io no No lui il No è il circondato da scheletri Te non muoverti troppo Ammon Eh stavo facendo un po' di carne Verso il sole Verso il sole A me servirebbe una spada Non ce l'hai? No Poi tu hai un pacco di ferro Mi servirebbe dell'armatura Un pacco Aspetta do io Tieni c'è della mia Non ce l'hai Sì così te muori poi Ma sono più stiloso Sì guardati Ci seguono i fantozzi Dai buongiamo via Dai Però Avete abbastanza Io ne ho 48 di torce Sì dovrebbero bastare Piazzate queste torce Appunto piazzatele però C'è tu Luca Allora vieni qua Luca che ti do le torce Così le piazzi Perché io non vedo nulla Ce le metto io dai È finita la grotta È un bucho nell'acqua questa grotta Sì vabbè ma anche voi Allora adesso raccattate tutte le torce Ferro Dove è ferro Ce l'ho io qua Te raccattiamo le torce È stato uno spreco di torce Ma questo non è ferro Ruben Qua c'è il ferro Luca No quello lì è schifezza C'era il ferro Via via Dai Aspetta Andiamo avanti Non vedo niente Aspetta fammi andare avanti Che io non vedo niente Sulla macchica qua Segui la luce Ma se me la togli Dovremmo Dovremmo scavare o no Dentro questa Di qua di qua di qua Andiamo dove ci sono tutti quegli alberi strani Sì sì Ramon dove sei? Sta arrivando Ho tirato sulle torce Guarda che bello C'è un villaggio Dove? Andiamo andiamo Seguimi Seguimi Buongiorno Buongiorno Ah c'è un po' di grano Avevo giusto bisogno Di cucinare un po' Nel villaggio Ce l'avranno un forno Dico io Sì sì Ma guarda Fono un forno Fono sulla Sulla fodera Popolo Sì Popolo Eletti C'è un coniglio Salve Un villager Un villager Un villager Non ucciderlo No Me ne sono passati 5 davanti Prima Arcaio Ma non ucciderlo Non sto uccidendo Stavo parlando Sento che fa versi strani Poveretto Allora Sto forno Dov'è? Buongiorno Ah Cos'è che mi dà Smeraldo Per 21 di carbone Oppure Ah no Ecco io direi Di fare la nostra Base operativa Qui nel villaggio Dai ci sta C'è un pozzo C'è un pozzo Allora Organizziamoci Io faccio le mura Tutte queste persone Andranno incontro La morte Se non le salviamo noi Cioè Noi siamo La loro salvezza Cioè Avete capito? Mi vieno a vomitare Questo gioco Ti fa vomitare? No Mi vieno a vomitare Letteralmente Ops Sono finito Ad una volta C'è il ferro Il ferro Luca Metti giù I letti Quello che stavo facendo Non mi ricordo Ah sì Devo fare il forno È pieno di ferro E di Guarda qua quanto roba Qua è proprio Una caverna Di quelle power Guarda qui che roba Se trovi luce La madonna Eh Sono passato io Già Tutte quelle torcettine Ma è se io Ah sì Sì Vabbè Ragazzi Abbiamo scoperto Bene Abbiamo trovato Dove fermarci Siamo andati in pellegrinaggio Abbiamo trovato Dove fermarci Questo villaggio Adesso Faremo la nostra Base operativa Dentro questo villaggio E andremo ad esplorare Unteriormente Le I confini Di questo mondo Per oggi ragazzi È tutto Runny Maker a voi Da Runny Maker Okram Nomma E LC Demon È tutto Ciao Ciao